Personalmente sono più sorpreso di Mick Schumacher in ottava, di Tsunoda in nona e di Stroll in decima posizione, piuttosto che di Verstappen in pole, qui in Olanda. Però non riduciamo le qualifiche al risultato, c'è molto da parlare, Verstappen fa un ottimo tempo, in mezzo a Yoran ci sta che parte in pole, era da aspettarselo, ma non era così scontato in realtà. Non l'ha fatto trasparire ma l'ha messo in conferenza stampa internazionale, è stato un weekend complicato per lui. E se ci pensate Leclerc la poteva fare la pole, sono soltanto 21 i millesimi di distacco da lui, però paga un errore nel secondo settore. E quindi diamo più merito a Verstappen e meno a Charles. Arriva in curva 9 con tanta velocità, perde il punto di corda, tanto angolo sterzo, va in sovrasterzo, compromette la curva e arriva anche un pelo lungo alla 10. Lì almeno un decimo può averlo perso, nel bene o nel male quindi Ferrari c'era. Ed è qui che voglio aprire i passi gara. Perché i passi gara a Verstappen e Sainz li hanno praticamente simili, con una sola differenza però. Che Sainz tutto il weekend si è trovato sempre bene, ha espresso ottime sensazioni, mentre Verstappen dall'FP2 all'FP3 è cambiato il mondo. Senza questa intervista starei parlando di un Verstappen che, col passo gara, c'è come al solito, poi era importante la qualifica, qui è difficile superare. Non mi aspettavo un pelo di difficoltà per l'olandese, anche perché è lo stesso pilota che in Q2 dopo un tempo ha deciso di non scendere più in pista. Un punto in più a Verstappen, ricordiamolo quando probabilmente vincere il mondiale, anche la forza mentale che ha. Un pelo in difficoltà, magari potevi fare dei giri in più, lasci la macchina in box, perché sei il più forte. Mentalità ragazzi, mentalità. Grande poll di Verstappen, su questo nulla da dire. Comunque tornando alla qualifica, questa era importante soprattutto per lui, in quanto sia Sainz che Leclerc hanno un ottimo ritmo. Mercedes che ha deluso in qualifica, ci ha anche pensato Perez a chiudere un po' tutto il cerchio, però era difficile vederli partire sopra la seconda fila. Ma in terza posizione forse neanche ci sarebbero arrivati. Peccato per Russell perché partire a sesto, Perez quinto e a chiudere il sandwich ci sta Lewis Hamilton, in quarta posizione. Peccato per Russell perché, mentre Hamilton non si è aperto molto a dare dati agli avversari, Russell invece si è messo e ha martellato. Soprattutto sul passo gara, con gomma gialla, stessa che ha utilizzato Leclerc, è riuscito a mantenere, con probabile stesso carico di carburante, 9 giri tutti sul 17 e basso fino ad accusare un crollo. E da lì poi rientra in box e non ci dà più nulla. È importante conoscere questo crollo perché la gomma si usura con costanza, ma quando si entra nella finestra di cambio, osare un giro in più, un giro in meno cambia tutto. Si apre quindi la possibilità di attaccare con un undercut, soprattutto perché in questo circuito è difficile sorpassare. 17 e basso per Russell, 17 e basso per Leclerc, Leclerc in realtà un decimo più giù, però stiamo lì, alla fine entrambi butteranno giù questo tempo e mostreranno di meglio. E questo lo penso anche per Sainz e Verstappen, ho dimenticato di dirlo, Verstappen e Sainz hanno girato su un 17 e basso con la rossa, in media, però mi verrebbe tranquillamente da dire che hanno il passo sul 16 e 9, 16 e 8. Chi ha deluso più di tutti è Sergio Perez sul passo gara, sulla qualifica e sulla posizione in partenza. Va a muro, la perde alla 14, parte quinto, il passo gara è sull'1, 17 e 6, per darvi un'idea in questo momento Stroll va meglio di Perez, non voglio andare contro Perez, però Stroll va molto forte. E potrebbe essere un punto a favore per i costruttori, qualora in casa Ferrari. In generale i due Red Bull tante difficoltà. In particolare curva 3 e curva 9 sono i punti dove Red Bull soffre di più. Fa ridere perché Leclerc ha sbagliato proprio in curva 9, dove dovrebbe essere il suo punto migliore, ma ok. Non so se riuscirò a inserire delle immagini, però ho annotato nel mio quaderno degli appunti magico, che alla 3 per esempio Max Verstappen tarda tanto l'entrata. Per poi allargare molto la traiettoria della monoposto e infine chiudere. Non è diversa interpretazione come all'inizio pensavo, ma è sottosterzo. Essenzialmente non riesce a chiudere la curva ed è costretto a una traiettoria più larga. Tra l'altro quindi crea una nuova linea per andare forte. Ed è stato facile notarlo perché Leclerc ha una traiettoria più centrale, va più veloce ed è semplicemente più pulito. È più omogenea la linea di Leclerc, complice a una vettura comunque ben equilibrata. Mentre il messicano ha proprio il problema opposto. Verstappen accusa molto sottosterzo, mentre Perez ha accusato per tutto il weekend tanto sovrasterzo. E come dimostriamo ciò, con l'incidente che ha portato in curva 14 in qualifica, dove ha perso il posteriore. Sia chiaro, io sto argomentando perché questo è un pre-GP e quindi vi invito ad iscrivervi al canale. Ma non è uno scenario così catastrofico, anzi tutt'altro. Perché il fatto che Verstappen parta in pole con comunque problemi, non è proprio una cosa positiva per un tifoso Ferrari. Forse perché chi è realmente in difficoltà è Leclerc, come pilota. Oltre che a Perez, sia chiaro. Quinta posizione con la stessa macchina di Verstappen è infattibile. Ma adesso passando anche agli altri, buono Lando Norris parte comunque in settima posizione. E probabilmente era anche il mio risultato che potesse portare McLaren a casa. Ricciardo invece è malissimo. Ragazzi ho sperato che Ricciardo, dato che comunque questo è un circuito ok per McLaren, potesse lottare, piazzarsi in top 10, ma invece parte diciottesimo. Mi sa tanto che l'Australiano l'anno prossimo non lo vedremo in Formula 1. Gira voce di un posto come terzo pilota Mercedes. Voce molto forte, perché poi magari nel 2024 si ritira e Hamilton potrebbe salire lui. La vedo un po' attirata, ecco, secondo me Hamilton rimarrà. È una finestra che si è aperta, però è l'unica. Alpine sembra ormai aver chiuso con Gasly. Mick Schumacher sta lottando per rimanere in F1. Uno sale di nuovo in voga il nome di Schwarzman in ass. Ricciardo con questa diciottesima, male male male. Applausi invece per Mick, ottavo. Sperando possa portare i punti a casa, dato che ormai anche lui barcolla. Col decimo è la riconferma di un pilota che sta trovando la quadra. Fettel parte invece nelle retrovie con l'aggravante di un incidente alla 14. Perde anche lui il posteriore e non conclude il giro. E infine Tsunoda parte nono davanti al suo compagno di squadra, che parte undicesimo. Gasly sembra aver trovato performance, però attenzione a Tsunoda perché in teoria lui non ha rinnovato. Non succederà nulla al giapponese. Però quando non hai un contratto in mano abbiamo visto cosa è successo con Piast. Con ciò ragazzi ci becchiamo domani nel post gara. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così like, iscrivetevi al canale, Instagram. Da Tonio era tutto. Passo. E chiudo.